Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su LibriTV, questa sera 27 aprile 2016 in uno spazio per voci transnazionali su LibriTV e abbiamo in collegamento come ospiti per questa materia transnazionale, internazionale e transnazionale, parleremo di Libia, abbiamo in collegamento Gianfranco Damiano, presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, ringraziamo appunto di essere qui ospite con noi e insieme a lui Francesco De Palo che LibriTV e tutto il pubblico di LibriTV già conosce, creatore, animatore, ispiratore di un nuovo blog, retelibbiablog.wordpress.com in cui appunto si approfondiscono un po' i temi relativi alla situazione politica particolarmente travagliata, al momento più che politica potremmo dire militare particolarmente travagliata di questa regione appunto del Nord Africa che è la Libia, al momento divisa da un punto di vista più o meno governativo in due governi, ma poi approfondiremo un pochino passando appunto con la lente degli interessi e delle attività che legano commerciali, che legano l'Italia alla Libia appunto attraverso la testimonianza di Gianfranco Damiano, parleremo ovviamente anche di questa vicenda. Io ringrazio nuovamente Gianfranco Damiano e volevo cominciare a parlare di questo aspetto con un'introduzione che ci potrebbe fare appunto riguardo appunto quali sono, qual è l'entità degli affari italiani in Libia, di che si tratta e anche quanti italiani ci sono a curarli in Libia? Dare una valutazione numerica è sempre molto difficile, siamo nel campo del business quindi tutti sono molto attenti. Comunque diciamo che il valore non è inferiore sicuramente ai 40 miliardi di euro di traffico annuo, questo è un dato eccettuando ovviamente il valore per quanto riguarda l'oil e il gas. Quindi siamo su numeri sostanziali e importanti per la nostra economia, ma il più ancora da venire nel senso che la ricostruzione della Libia richiede soprattutto per il futuro l'implementazione di progetti in corso che si stimano essere all'incirca sui 300-400 miliardi di dollari, in prima battuta. Quindi sono numeri veramente considerevoli, sui quali ovviamente si scatenano gli appetiti di un'Europa in crisi e anche dell'Oriente e degli Stati Uniti. Quindi abbiamo dei competitor importanti e molto attrezzati rispetto a noi. Per quanto riguarda gli italiani attualmente in Libia ci sono degli italiani, sono tecnici che tengono in piedi alcune strutture, c'è un livello di assistenza e di protezione interessante e importante ovviamente, però ecco siamo su numeri ridotti, sicuramente inferiori a 100, ma non inferiori ai 50, diciamo 70-80 persone perché abbiamo delle iniziative, attività ancora in corso, anche su Misurata, su Tripoli, su Benghazi e anche al sud. Quindi ci siamo. Immagino che ci sia anche Leni in mezzo. Leni fa un po' vita a sé in tutta questa partita. Leni ha i suoi sistemi, le sue aziende, i suoi compound, per cui anche e soprattutto le piattaforme offshore, diciamo che non possano entrare in questa partita. Comunque il gas che arriva anche in Italia, anche dalla Libia, è garantito da tecnici italiani. Francesco, a te la parola. Sì, in questo momento abbiamo una situazione abbastanza complessa da un punto di vista politico. Perché? Perché fino a poco tempo fa i governi, come giustamente ricordato, erano due, il governo di Tobruk e il governo di Tripoli, ma da qualche settimana è entrato un terzo competitor nella partita libica. Il competito si chiama Serragi. Nelle tensioni dovrebbe essere quindi l'uomo che ammortizza le tensioni, ma non l'uomo del futuro. Quindi un personaggio che secondo le Nazioni Unite dovrebbe rappresentare una parentesi per calmirare una situazione di frizione, di guerra civile. Parliamo di guerra civile con le tribù, ma anche con la gravissima presenza dell'Isis, per poi tentare di riportare il paese a una normalità. Una normalità che manca dal 2011 ad oggi. Perché? Perché la strategia europea, americana, è stata chiara, una strategia che non ha compreso, non ha strutturato una ripresa istituzionale, una ripresa governativa in Libia. Dal 2011 ad oggi abbiamo vissuto anni terribili, anche per le aziende italiane che si sono trovate a sgomitare davvero con i gravissimi episodi di guerra civile. Numerosi sono state le aziende che sono dovute fuggire in fretta e furia senza alcuna garanzia. Poi il Presidente della Camera vi racconterà altri episodi del genere. Io mi limito a sottolineare da un punto di vista politico che non va sottaciuto, che diciamo ad avere un peso specifico non secondario oggi nel paese è quel gruppetto nel parlamentino libico che non appoggia il governo Serraje, quindi il ruolo dei fratelli musulmani, accanto ad una presenza turca significativa che andrà anche analizzata da un punto di vista geopolitico. La presenza turca da invasiva potrebbe a breve scemare. Perché? Perché è centrale per capire le dinamiche libiche, ragionare sulla presenza per esempio egiziana, anche come influenza nei confronti del generale Haftar che copre il versante di Tobruk, ragionare sulla politica che stanno facendo Londra e Parigi, perché Londra e Parigi da due mesi sono già in luogo. Quindi non serve soltanto parlare di Tobruk come fanno molti analisti nel nostro paese o di Benghazi per fare il focus sulla Libia, ma a ragionare anche sull'atteggiamento per esempio ambiguo che Ankara ha tenuto nei confronti dello Stato islamico sino allo scorso anno. Perché? Perché Ankara ha queste ritorsioni sempre violente e cruente nei confronti dei kurdi, ma quando ci tratta di ragionare un attimo sullo sviluppo della macro regione, quindi parlare di Siria, parlare di Turchia, parlare di Libia e non di questi paesi singolarmente, ma parlarne in modo integrale, ecco è un grimaldello che la stessa Ankara sta utilizzando con Bruxelles e Berlino sui rifugiati, ricordiamo tutti l'accordo sui rifugiati che Ankara ha inteso raggiungere con questo pagamento dai 6 miliardi di dollari che però non risolve la partita ma soltanto investe su se stessa. Diciamo che l'Egitto in questo caso vorrebbe fare come ha fatto Ankara, l'Egitto gioca una partita isolata, gioca una partita a sé, non punta a calmirare l'intera macro regione, ma sta facendo un ragionamento egoistico. Ecco, con queste premesse il lavoro che dovrà svolgere Sir Raji non è un lavoro semplice, in questo momento ci sono anche dei potenziali scontri che come tutti sapete nelle scorse ore sono arrivate delle armi e delle munizioni al governo di Haftar, quindi per ragionare di Libia in questo momento dobbiamo capire quale è il ruolo della Francia e di Londra, quale è il ruolo dell'Egitto e ahimè quale ruolo non è stato svolto dall'Italia e dall'Europa. Presidente, io proprio prendendo lo spunto appunto dall'arrivo di Sir Raji in qualche modo l'attesa di normalizzazione, l'appoggio internazionale a questo governo e anche gli allarmi dell'ONU, di Kobler che dice che in qualche modo i pozzi petroliferi devono essere difesi. Ecco, per quanto riguarda tutto l'aspetto commerciale e anche appunto gli interessi italiani, l'arrivo di Sir Raji come può influire e soprattutto c'è già stato qualche conseguenza positiva o negativa? Bisogna puntualizzare una cosa, quello di Sir Raji è un governo per la Libia voluto dall'ONU, non è il governo della Libia. Quindi questo vuol dire che dai libici c'è questa disponibilità ad appoggiarlo in questo momento il primo mattoncino che forse resisterà, speriamo, per preparare dei passi ulteriori, per arrivare a una conformazione del governo più organica sul territorio e realmente rappresentativa. Consideriamo che i ministri scelti nel governo di Sir Raji non sono stati scelti da Sir Raji ma da un gruppo dei cinque che hanno scelto per ogni area i rappresentanti presunti. Questo pone un problema anche per il futuro, per il semplice motivo che l'assetto odierno non è quello rispondente al Paese. È un governo imposto dall'ONU dopo una traversia allucinante iniziata con Bernardino Leon e poi con maggior fermezza da Kobler e quindi interesse dei libici oggi accettare questo e su questo poter lavorare. Sicuramente chi sta giocando sporco in questo momento alimentando le tensioni sono i fatali musulmani, su questo non c'è alcun dubbio. E anche l'atteggiamento di Haftar che cerca di massimizzare il profitto in questo momento certo non aiuta neanche questo, perché si pone anche come ulteriore soggetto a quelli già esistenti. Al di fuori di questo c'è il ruolo che gioca l'Egitto, c'è il ruolo che gioca l'Arabia Saudita perché gli armamenti arrivati ad Haftar è stata una nave che è partita commissionata dall'Arabia Saudita che ha alimentato le capacità militari ovviamente importanti per Haftar. In tutto questo c'è il sistema politico mediterraneo per cui su Haftar ha l'appoggio ovviamente dell'Egitto, c'è questo intensificarsi dell'asse franco-egiziano con l'influsso dell'Arabia Saudita, vediamo che lo schema di gioco è molto ampio e molto variabile. Questo è il motivo per cui bisogna che la comunità internazionale dia il massimo appoggio per stabilizzare, proprio per cristallizzare un attimino la situazione, però siamo tutti quanti convinti che è un periodo di passaggio sperando che sia sufficiente a costruire un nuovo esecutivo. Per quanto riguarda il ruolo francesi e inglesi sono già appostati da tempo i francesi al Benina all'aeroporto di Benghazi, altri sono gli inglesi che sono appoggiati su Misurata, c'è anche un gruppo di americani come consiglieri e i francesi sono presenti anche al sud, in corrispondenza dell'Africa subsahariana, il Mali eccetera. Per cui noi siamo in una situazione molto critica perché sembra che a noi manchi una determinazione di cosa muoversi, dove andare, come muoversi e quali armi mettere, armi in senso di azione politica mettere sul campo. E questo è un po' al punto di debolezza. Consideriamo che noi avevamo delle persone importanti come Romano Prodi che era stato richiesto dai libici come soggetto unificatore delle tribù, delle varie componenti, Cirenaica, Fezzagna e Tripolitania, però non è stato dato il là affinché la sua collaborazione potesse essere effettiva, già ai tempi dell'ONU. Ed è strano anche che le considerazioni fatte dall'esecutivo italiane siano state in quel tempo, qualche mese fa, che Prodi non potrebbe essere a capo di un percorso perché ricordava troppo l'epoca del colonialismo italiano. Però a questi punti rimane anche molto strano l'ipotesi che la guida dell'iniziativa odierna a livello anche militare, logistico eccetera venga data all'Italia. C'è una contraddizione che è notevole e questo preoccupa molto perché questo vuol dire lasciare spazio ad altre nazioni e noi potremmo ricavarne effetti estremamente negativi in questa fase, dove si stanno assestando anche all'interno dell'area libica personaggi, istituzioni eccetera che potrebbero essere richiamati dalle sirene di altri paesi rispetto all'Italia. Il livello di attenzione e di preferenza per l'Italia è sempre stato elevato dai libici e non vorremmo che quello che sta succedendo vada ad inquinare questa preferenza sempre molto forte. Francesco volevo darti la parola però prima volevo sentire un po' cosa pensavate di alcune letture che un pochino si trovano qui e là, qualche approfondimento relativamente al fatto che praticamente in mezzo a questi due governi più o meno insomma geograficamente parlando ci sta il Golfo della Sirte, ci sta l'Isis o l'IS, lo Stato Islamico. Ecco, la lotta nei confronti appunto contro lo Stato Islamico sembra appunto da certe letture, certi approfondimenti sia un po' un modo per accreditarsi nei confronti dell'Occidente, cioè insomma chi riesce a fronteggiare e chi riesce, chiaramente qua i contendenti sono due, a fronteggiare e a far indietreggiare e a riconquistare lo spazio occupato dagli S che è quello che un pochino anche relativamente a tutto il problema del terrorismo inquieta l'Europa, ecco potrebbe essere meritevole di un certo credito da parte dell'opione pubblica internazionale eccetera. Ecco, questa è una lettura secondo te Francesco, poi anche il Presidente, sentiamo. Ma guarda, io partirei dal dire che secondo me l'Isis prima che con le armi si combatte con il lavoro, non dimentichiamo che in Tunisia la maggior parte dei foreign fighters, quindi i mercenari che sono ingaggiati dall'Isis, sono ragazzi tra i 15 e i 17 anni che essendo disoccupati, non trovando lavoro, vengono assoldati dall'Isis che gli dà uno stipendio, oltre che un calaccio di confin mano. Quindi prima di ragionare su i cosiddetti stivari sul terreno, così come gli americani amano definire, io ragionerei su una politica che torni a fare business, torni a fare sviluppare il mercato del lavoro in aree tendenzialmente depresse in cui lì si è trovato un terreno fertilissimo. Osservo, rispetto alla tua rassegna interessante, cosa ha scritto il generale Fabio Mini sul fatto quotidiano di oggi. Ha scritto una cosa abbastanza interessante. Secondo il generale Mini l'Isis è ancora, tra virgolette, il pretesto per realizzare quel cosiddetto piano di disfascimento di Iraq, di Siria e di Libia, che era tanto caro, tanto agli Stati Uniti quanto all'Arabia Saudita. Ma questo piano, secondo la teoria del generale Mini, è precipitato. Perché? Perché in questi mesi il ruolo giocato da Mosca ha avuto un peso specifico diverso rispetto ai programmi anche dell'Europa stessa. Perché? Perché ha spezzato quella legittimazione del supporto sull'aiuto esterno all'Isis, in primis la già citata Turchia, su cui la CNN nei mesi scorsi ha pubblicato svariati video in cui si vede che da territorio turco transitano tranquillamente le carovane dell'Isis. Ma la differenza è questa, che mentre in Siria la coalizione occidentale attende che l'Isis si ritiri da Iraq, quindi c'è stato anche il ritiro delle stesse truppe di Mosca, Libia, se il governo di Serraji invoca questo sostegno da parte della comunità internazionale e se Londra, come abbiamo visto, sta inviando, se non lo ha già fatto in queste ore, addirittura mille soldati sul territorio, significa una sola cosa, che al Serraji al momento non ha consenso intorno a sé, non ha il controllo del territorio. Ed è proprio per queste ragioni che l'analisi vada fatta in modo composto, se non vogliamo essere dei megafoni di superficialità come purtroppo alcuni media hanno fatto, e deve riguardare non solo la Libia, ma insisto, veramente il triunvirato Egitto, Francia e Turchia. Perché da un lato è vero che Haftar sta combattendo una battaglia contro l'Isis, proprio nell'ultima settimana ha riconquistato, seppur una piccola porzione, però a livello simbolico è questa fabbrica alla periferia di Benghazi, che era stata occupata dall'Isis e che il generale Haftar ha riconquistato. Però a questo punto può essere utilizzato lo strumento della guerra all'Isis in quell'area, non solo per fare pulizia del terrorismo dell'Ostratio Islamico, ma anche per accreditarsi nei confronti dell'Occidente. Quindi se da un lato Haftar sta svolgendo questo ruolo secondario, in cui forse vorrebbe anche egli accomodarsi al banchetto del grande governo di riunificazione post-Ghedafi, dall'altro bisogna ragionare sul fatto che l'Isis si combatte anche portando lavoro, e l'esempio della Tunisia con i terroristi che hanno sparato sulle spiagge, quindi distruggendo l'unica vonte di sostentamento tunisino che è il turismo, è lì a dimostrarlo. Perciò ancora maggior ragione sulla scorta di queste considerazioni, io sono abbastanza scettico sulla strategia europea. Perché? Perché alla luce di queste analisi l'Europa dovrebbe ragionare con un'unica voce su una strategia unicamente europea in Libia, invece ancora una volta l'Europa sta andando alla rinfusa, alla spicciolata, con Londra che manda mille uomini, con una task force francese che è lì in Libia presente da alcuni mesi, ognuno va per conto proprio e con il rischio che chi prima arriva, prima si aggiudica qualche posizione, è a pagare a questo punto, come al solito succede, sono proprio le aziende che invece portando lavoro, portando un minimo di benessere, potrebbero anche impedire questo reclutamento proprio da parte dell'Isis. Presidente, mi prego. L'analisi di Francesco è molto precisa e delinea il quadro realistico. In effetti l'arma migliore che potrebbe avere il governo Renzi oggi sono le aziende italiane. Le aziende italiane hanno grandi legami in Libia, sono ben viste e possono essere portatrici di opportunità e di lavoro. Infatti per ritirare l'unica opzione che hanno qualunque governo libico è quello di creare lavoro per ritirare i Kalashnikov, per smontare le milizie. Perché di fronte a un momento particolare di crisi, dove con la violenza si riesce a guadagnare soldi, si riescono a intimorire il prossimo, eccetera, cosa si offre ai giovani? C'è una popolazione estremamente giovane. La Libia è il punto ora di maggior accentramento e di punta dell'Isis, perché sa benissimo che può contare su un bacino di persone e di ragazzi che vengono dalla Tunisia, che sono venuti via dalla Siria, parte dall'Egitto. All'interno della compagine dell'Isis, presente a Derna o a Sirte, i libici possono essere il 2 o il 3%, il resto fa parte di altri paesi con altri problemi. Il fatto di tacitare questa situazione può essere soltanto uno strumento di lavoro e le chiavi dell'opportunità del lavoro possono averle benissimo le aziende italiane. Però essere in Libia ci deve essere anche la cornice politica per accompagnare questo percorso e le nostre aziende non aspettano altro. Certo, i libici ricordano che l'Europa non ha fatto nulla, non ha fatto nulla per favorire un discorso di proposizione di un nuovo scenario. La stessa Mogherini fa un po' l'osservatrice della situazione, ma non è nato nulla. In tutto questo contesto chi ne ha tratto massimo vantaggio è stata la Turchia e nel frattempo la situazione però in Libia non cambia, perché i flussi ci sono comunque, non si vanno a intercettare certe situazioni di aggregazioni di tribù abbastanza complesse. Però bisogna anche dire che c'è parecchio fermento in Libia, perché si capisce che se arrivate in fondo, diciamo che la media borghesia, la borghesia dei commercianti sta spingendo affinché del lavoro, delle produzioni, dell'opportunità della ricostruzione si vada verso una stasi, una stasi della violenza e l'unica soluzione, ribadisco, è quella di creare del lavoro. Certo, su questo influiscono nei vari scenari della Siria, l'Arabia Saudita, il Qatar, che ha fomentato parecchio abbastanza, e, come dicevo prima, riuscire a stabilizzare, a frizzare la situazione in Libia, vuol dire poi allentare maggiori tensioni, le potenziali tensioni che ci possono essere in Tunisia. Tunisia, attenzione, sta vivendo una stagione molto particolare, molto delicata, per cui non esiste soltanto il problema Libia, esiste il problema Tunisia, esiste il problema Egitto, esistono una serie di fattori che si vanno a incastrarsi sulla Libia in un modo micidiale. Questa miscela, però, può essere smontata soltanto dai libici. E la proposizione dell'ONU, comunque, oggi, come dicevo prima, è un passaggio momentaneo, bisogna dare spazio a quelle, non dico fazioni, ma a quei gruppi che attualmente sono in Libia, e mi riferisco quindi all'est, all'ovest, al sud, e, per la prima volta, direi anche un'altra componente, la quarta gamba di questo tavolo, che possono essere fuoriusciti Gheddafiani. In fin dei conti, un momento di riappacificazione si deve creare, perché la struttura statale era retta da una classe di persone che sono scappate all'estero. Quindi, anche il passaggio non è stato possibile né creare esercito, né creare strutture. Le uniche strutture che reggono sono la National Oil Company, la NOC, che sovrintende la registrazione del petrolio e del gas, e la banca di Stato libica. Tutto il resto è smembrato, i ministeri non hanno struttura, e non è possibile costruire un percorso se non si va a ricucire intorno al tavolo quelle componenti che realmente danno potenzialità alla Libia. Ormai l'epoca Gheddafi è terminata, il figlio di Gheddafi, Seif, dimora agli arresti domiciliari, ma è in una fattoria, quindi svolge già attività di semi-libertà. Quindi bisogna guardare un po' avanti, bisogna costruire delle relazioni a parte delle tribù, anche con altre componenti. E questo, ribadisco, non può essere l'ONU, perché l'ONU ha sbagliato tutto il percorso dall'inizio ad oggi anche. Oggi c'è stata la volontà di Kobler che ha costruito questo governo Serraji, però attenzione, c'è la grandissima volontà dei libici di stabilire un punto fermo per guardare avanti. Quindi Serraji è un passaggio, è un percorso, e bisogna collaborare, non certo con le armi, perché il problema ISIS viene smontato nel momento in cui si riesce a costruire un tavolo, un governo credibile. Allora, Tobruk, Tripoli e anche la parte sud, che gioca una partita non trascurabile, perché dal sud arrivano anche armi, altri traffici, possono sconfiggere l'ISIS. L'ISIS in Libia possono essere 4.000, 5.000 entità combattenti, ma quasi 4.000 vengono dalla Tunisia. Quindi l'appoggio sul territorio da parte dei libici non ci sarà. E quindi tutto si riduce a una questione, inizialmente, di strategia politica, non di invasione della Libia, perché i libici hanno la capacità, le armi, eccetera, i due governi, per sconfiggere l'ISIS. È anche vero, quello che diceva Francesco prima, che questa forzatura della presenza francese e inglese sovraintende anche altri interessi. vuol dire mettere la zampa in Libia per costruire un futuro differente. E questo i libici lo hanno capito. Io volevo che lei ci illustrasse meglio una dichiarazione che ha fatto che leggo appunto relativamente a un credito di un miliardo che avrebbero appunto le aziende italiane in crediti certificati in Libia. Ecco, una parte di questo credito è una cosa recente, ma un'altra parte, diciamo, è più risalente. Ecco, c'è una speranza appunto di riuscire a ottenere questo credito in qualche modo, cioè il pagamento di questi soldi e soprattutto una cosa che forse è anche collegata relativamente per esempio alla dislocazione degli interessi italiani in Libia è pensabile realisticamente, perché quando cadde Gheddafi quasi ci si era convinti che si sarebbe divisa la Libia in due o tre regioni. Ecco, oggi è pensabile effettivamente che in un'ipotesi di ricostruzione, come lei accennava, si riesca a tenere unitaria la Libia? Ma la Libia è una nazione molto recente che è nata praticamente grazie all'invasione italiana del 1911 e poi si è aggregata per parti. Oggi come oggi nessun libico ha l'idea di separazione. Chi parla di separazione del paese lo fa per garantire e per appropriarsi alcuni interessi. La strada vera, realistica è quella di una federazione spinta, evoluta tra le tre componenti, quindi Cirenaica, Pezzan e Tripolitania. Ovviamente su questa linea spinge al contrario l'Egitto. L'Egitto è interessata alla Cirenaica per le fonti di petrolio e la parte più ricca della Libia. L'importante è e quindi i libici non vogliono assolutamente che la Libia si frantumi anche perché destabilizzerebbe notevolmente perché a quel punto la stessa presenza dei francesi all'aeroporto di Benghazi si spiega con la loro presenza la parte sud e praticamente vanno a prendere la parte migliore della Libia. Tripolitania è abbastanza povera considerando che nella zona sud della Libia componente desertica ci sono delle miniere di uranio. Quindi anche questo spiega e fortifica ulteriormente certe tendenze. E in questo quadro complesso, come dicevo, anche molto articolato il gioco del miliardo di crediti è importante perché riuscire a recuperare quei soldi vuol dire dare ossigeno alle aziende italiane per poter rientrare in Libia e poter investire e quindi creare lavoro. Questi crediti però sono divisibili in due tranche. Una che riguarda i crediti degli anni 90 e un'altra quelli post-rivoluzione quindi 2011. Quelli anni 90 assomano circa 350 milioni di euro. e diciamo che sono cifre reali certificate e non è comprensibile il perché in questi anni dagli anni 90 in poi non si sia creato un percorso per rientrare di questi crediti. Cioè le imprese italiane hanno pagato il frutto di un atteggiamento governativi dei governi che si sono succeduti ovviamente per non disturbare il manovratore Gheddafi perché quei soldi erano certificati a tutti i livelli anche dal nostro ministero degli esteri e del ministero libico degli investimenti. Poi ci sono 650 milioni post-rivoluzione di contratti già chiusi finiti quindi anche quelli sono soldi veri e anche su questi si era aperto un percorso con quei vari ministeri italiani affinché si potessero utilizzare quel fondo che era stato creato nell'accordo Berlusconi Gheddafi per la costruzione dell'autostrada quindi si tratterebbe di costruire un fondo di garanzia per sostenere le imprese perché di quelle circa 200 aziende che hanno questi crediti alcune ormai sono sono saltate perché si tratta di crediti che partano dai 50 a 30 mila euro per arrivare a aziende che hanno crediti di 25 30 milioni di euro per aziende che hanno già iniziative in corso tra l'altro da terminare quindi vuol dire accrescere notevolmente ripotere ripartire riportare giù le maestranze le attrezzature e non stiamo parlando questo è molto importante dei danni subiti dalle imprese nelle varie nei vari campi anche questi sono sono cifre milionarie però le aziende italiane dice vabbè l'importante è che ci date la possibilità di poter ripartire e questa però è una partita che è stata giocata male in Italia non è colpa dei pari libici ci sono stati gli eventi sono cifre certificate per cui si poteva attingere a quel fondo e stabilire dei finanziamenti o almeno alleggerire la pressione fiscale contributiva di queste imprese coinvolte perché in fin dei conti hanno lavorato però è mancato quel livello di protezione per quanto riguarda le aziende giù è anche vero che chi fa impresa giù lo fa proprio rischio ma è anche vero che ci sono dei patti che attualmente sarebbero ancora in vigore mi riferisco all'accordo Berlusconi Gheddafi che non sono stati mai abrucati e mai rifiutati da nessuno che ci sono gli spazi per poter garantire alle imprese di poter recuperare questi crediti e questo è importante perché se il governo italiano investisse per ogni euro che investe in istruzione o in fornitura di armi ai libici sarebbe necessario investirne almeno tre per quanto riguarda le imprese i risultati sarebbero ottimali perché non è che portando 150 istruttori italiani in Libia che tra l'altro l'addestramento l'hanno fatto anche a Cassino in Italia e in altre parti per addestrare la polizia o alcuni componenti militari si possano raggiungere poi risultati il problema è alimentare la Libia col lavoro dargli possibilità di spesa e quindi traguardare lentamente perché è stato un percorso molto lento aiutare la crescita delle imprese e la cosiddetta democrazia perché quella portata oggi non è una democrazia perché è un governo imposto questo dobbiamo dirlo è stato imposto dall'ONU e quindi il ritorno che c'è a livello locale è sì di accettazione però tutti guardano avanti quindi bisogna avere anche la capacità da parte dell'esecutivo italiano di traguardare in modo differente la Libia la Libia non è soltanto Eni perché l'Eni ha le sue strategie ha i suoi percorsi che poco sono certe volte non dico contrastanti però hanno un binario tutto loro molto differente da quello che è la politica italiana noi vorremmo maggiore presenza maggiore attenzione su questi temi perché si sta parlando di un di un buon gruppo di imprese che meriterebbe l'apertura di un tavolo di crisi alla presidenza del consiglio per cercare di alleviare questo percorso perché questo è un punto di partenza e attenzione è un punto di partenza non solo per le aziende che hanno il lavoro in questo momento in essere ma soprattutto per il futuro ed è lì che la situazione diventa abbastanza pesante è molto interessante soprattutto questo accenno a Leni come entità diciamo quasi a sé stante come un attore quasi una sorta di extraterritorialità ci sta in questa entità economica che agisce in Libia come in altri posti ovviamente Francesco da te la parola andando verso la fine perché ormai siamo arrivati al nostro più o meno traguardo ideale che è la mezz'ora sì due elementi diciamo a corredo un elemento significativo è il dossier migranti che si intreccia con la crisi politica in Libia perché dopo la chiusura della rotta balcanica con il filo spinato ai domeni al confine tra Grecia e Firum e i blocchi al Brennero anche dopo la vittoria del partito liberale di destra in Austria adesso rendiamoci conto che i trafficanti e i migranti hanno cambiato strategia hanno già imboccato nuove strade negli ultimi dieci giorni sono arrivati 6 mila profughi in Sicilia quindi Lampedusa è di nuovo nell'occhio del ciclone e andrà trovata con la Libia un accordo sui migranti non sulla falsariga di quello trovato con la Turchia perché ricordiamo che l'accordo sulla Turchia è un accordo scolibrato 6 miliardi di euro ad Ankara ci rendiamo conto del fatto che Ankara non ha i minimi diciamo diritti con giornalisti arrestati con vignettisti minacciati con addirittura imprese italiane minacciate a Cipro per quanto riguarda l'estrazione del gas ma un accordo più lungimirante che magari investe il territorio locale inteso quindi come dicevamo come creazione di posti di lavoro in Libia e soprattutto qualche giorno fa il generale Paolo Serra che è il consigliere militare del rappresentante ONU in Libia il citato Martin Kobler ha udito dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato ha detto che per il caso migranti la situazione libica è drammatica è disastrosa ha usato proprio il termine disastroso sui migranti pende quindi la spada di Damocle del controllo dei campi rifugiati che sono gestiti in questo momento da milizie e da banditi e da flussi che partono dalla Libia e investiranno anche l'Egitto quindi l'Egitto torna ancora in questo grande ragionamento io concluderei con due elementi un intervento internazionale si dovrà articolare lungo svariati ambiti che secondo me all'ultimo posto prevede l'ambito militare cioè io immaginerei che l'intervento internazionale sia di stampo politico e tecnico due elementi che fino ad oggi sono stati purtroppo ignorati la Libia certamente deve avere un governo di accordo nazionale ma questo governo deve sì chiedere l'intervento internazionale ma ed è pacifico perché sta accadendo in questi giorni sotto gli occhi di tutti ma questo intervento deve coprire la sicurezza ma lasciando ai libici le azioni di forza cioè non si può andare a fare un'ulteriore violenza in un luogo già violentato tra virgolette ripetutamente e il nodo l'Isis non aspetta altro prego l'Isis non aspetta altro l'Isis non aspetta altro per questo capire che il nodo da sciogliere è anche a questo punto l'Egitto quindi parlare ragionare di un paese che non partecipa a processi di stabilizzazione persegue interessi solo nazionali e secondo me dopo la crisi greca del Brexit in attesa del Brexit del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna l'Unione Europea prima di giugno c'è questa grande partita sulla Libia io mi auguro che non ci sia lo stesso errore che l'Europa ha commesso sulla Grecia che ha commesso sul versante dei migranti e che rischia di commettere proprio sul Brexit quindi la Libia è davvero il banco di prova per l'Unione Europea e questa volta non c'è non c'è proprio un appello perché o si fa una politica centrata e mirata oppure davvero questa volta l'Europa scoppia bene diciamo che quello che emerge e che sento purtroppo che ripetiamo frequentemente in questi nostri appuntamenti di voce trasnazionale trasnazionali è l'assenza di una politica estera europea purtroppo come tu hai accennato peraltro anche con gli ultimi fatti del Brennero lento percorso verso una Unione politica europea che vorrebbe dire anche un sempre tardio e lento percorso verso una politica estera unica sembra essersi ma non rallentato ma addirittura interrotto speriamo che in qualche modo riprenda e che non si inverta invece la marcia e anche ovviamente per quanto riguarda la Libia questo ha le sue influenze perché poi alla fine come è già successo le iniziative diciamo individuali o individualistiche di singoli paesi per poi fare i singoli propri interessi sono diciamo delle tentazioni che vengono vengono colte io do la parola diciamo per qualche parola ancora di chiusura al presidente Gianfranco Damiano ricordiamo presidente della Camera di Commercio Italo-Libica e poi andiamo in chiusura ma io mi auguro è un percorso complesso che l'Italia non dico che giochi le sue carte vedo poche carte molto indefinite tra l'altro però è anche vero che nelle sue visite in Italia negli incontri che ha avuto Obama con i nostri presidenti del consiglio per ben cinque volte Obama ha sostenuto che il dossier Libia era un dossier italiano da seguire e la politica non posso interpretarla in tanti modi ma sicuramente non siamo stati all'altezza di queste dell'affermazione di Obama perché ci siamo molto distratti su quello che è successo in questa distrazione altri si sono infilati in questo momento il ruolo dell'Italia è strategico perché altrimenti l'asse francese egiziano oltre a rimanerci fuori dalla partita rischia di destabilizzare ulteriormente il Mediterraneo e quindi io spero che ci siano dei passaggi e un percorso più logico la comunità europea sicuramente dovrebbe organizzare mettersi un po' a ragionare su questi su questi elementi la stessa Nato si riunisce a luglio per parlare di Libia siamo d'accordo che la Nato è un organismo militare però l'analisi di quello che sta succedendo potrebbe richiedere io spero mai un intervento di copertura a quello al governo se raggi potrebbe succedere questo però la lentezza di questi processi quasi il discorso speriamo che tutto vada a posto da solo intanto noi stiamo fermi purtroppo per l'Italia si è risolto a livello politico io rivalisco sempre un concetto che nel maggio 2014 Marco Minniti sottosegretario ai servizi alla presidenza del Consiglio su sole 24 ore ha sostenuto abbiamo sei mesi in tempo per evitare la Somalia sotto casa l'ha detto il capo dei servizi questo a maggio 2014 siamo ad aprile 2016 però i segnali l'intelligence è stata brava a analizzare a capire a leggere a interpretare però la parte politica si è dimostrata assente su come gestire questi processi soprattutto la cosa importante in tutta questa cosa è stranamente che continua è l'interesse dei libici che guardano verso l'Italia c'è questa disponibilità da parte dei libici l'Italia rimane comunque il mito rimane il primo interesse però rischiamo come dicevo prima che si sfibri questa relazione e questo per noi vuol dire poi energia lavoro per le piccole e medie imprese immigrazione e instabilità nel vaccino mediterraneo non possiamo essere degli irresponsabili in questo momento io ricordo che la nostra ambasciata a Tripoli l'unica ambasciata rimasta in Libia dell'Occidente e della comunità europea è stata chiusa all'indomani di due dichiarazioni di Gentiloni e del Ministro Pinotti che hanno detto noi siamo pronti con 5 mila uomini andare in Libia noi vorremmo un po' più di attenzione di saggezza fortuna che in quell'occasione Renzi è intervenuto ha stoppato però non si può stare troppo alla finestra ormai dobbiamo giocare anche noi la partita e penso che Renzi possa avere a parte le capacità un grosso aiuto dalle imprese perché portare essere giù imprese vuol dire tanto vuol dire tantissimo e soprattutto creare un processo di democrazia perché col lavoro si offrono capacità e possibilità di sviluppo del Paese Bene allora con queste parole di speranza ricordiamo che appunto abbiamo fatto questa trasmissione di voci questa puntata di voci transnazionali parlando di Libia con il Presidente della Camera di Commercio Italo-Libica Gianfranco Damiano e con il nostro amico Francesco De Palo giornalista e blogger animatore inventore creatore del blog rete libiablog.wordpress.com li ringraziamo entrambi e appuntamento a nuove trasmissioni nuove puntate di voci transnazionali qui su LibriTV grazie ancora buonasera grazie a tutti